È stato un ponte da quasi tutto esaurito quello dell'Immacolata a Gubbio, malgrado la pioggia battente che poco ha dato scampo nelle giornate tra il 7 e l'11 dicembre e con gli ombrelli diventati l'indicatore dell'affluenza turistica. L'ultimo lungo fine settimana è stato anticipato dall'accensione dell'albero di Natale più grande del mondo, la cui cerimonia è stata, come di consueto, richiamo per tanti visitatori, quasi tutti italiani e provenienti per lo più da Toscana, Lazio e Campania. Albergatori molto soddisfatti per il ponte con la quasi totale occupazione delle camere. La maggior parte delle strutture ha confermato un'affluenza importante che avrebbe potuto essere anche superiore se non fosse stato per la pioggia continua. Qualche disdetta infatti causa maltempo c'è stata, ma alla fine i visitatori hanno soggiornato mediamente due notti negli hotel del territorio. Ottimo riscontro anche per gli agriturismi e bed and breakfast, tutto esaurito per il camper club di Gupio, che ha accolto centinaia di equipaggi per l'Immacolata. Anche i musei hanno sorriso, in particolare il Palazzo dei Consoli, che ha registrato quasi 1800 presenze, anche grazie alla nuova mostra con la ricostruzione delle macchine progettate da Leonardo da Vinci e il Palazzo Ducale con poco meno di 600 visitatori. Numeri positivi anche per il Muam di Palazzo Beni, nella rinnovata veste natalizia, per il Museo del Bargello con la mostra sui samurai e la chiesetta dei laici. Affluenza sotto la media invece per il Museo di Ocesano, meno gettonato per Natale. In generale c'è stato un bel movimento, soprattutto nel quartiere di San Martino, in piazza 40 Martiri e in piazza Grande, come confermato dalle attività commerciali. Un'apertura del periodo natalizio, estremamente positiva dunque, che lascia ben sperare per le festività a venire.